Come mai qui a Bergamo stasera? Questa è una serata importante per la Lega, una serata dell'orgoglio leghista. Sono sicuro che questa sera uscirà una nuova visione sul nostro movimento e quindi è giusto che siamo qua tutti a presenziare, a testimoniare che ci crediamo ancora in questo progetto, che questo progetto si avvererà e che soprattutto bisogna fare quella pulizia invocata dal ministro che tutti ci auguriamo di aver fatto nel meno tempo possibile e più presto.